Tempo d'autunno Tempo d'autunno, di foglie secche che volteggiano al vento come farfalle al sole. Tempo di cieli scuri, di nuvole bianche e buie che vanno e vengono, leggere o assai pesanti. Tempo di pioggia, di grandinate dai chicchi gelidi che battono sui vetri delle finestre chiuse. Tempo di passerotti tremanti ed affamati, che cercano briciole di pane per nutrirsi. Tempo di alunni che vanno a scuola, per le strade sodano grida e sorrisi di dolce fanciullezza. Tempo di primi freddi, di primi raffreddori. Si indossano or vestiti di lana più pesanti, ma al sole si sta bene. Bello è l'autunno, stagione d'oro di frutti zuccherini. Gioia di adulti e allegria dei bambini.